Sulla via Finocchiaraprile, arteria tra la Villa Margherita e Santa Maria la Strada, le auto sfrecciano così velocemente che pure i veicoli in sosta rischiano di essere centrati. L'altro giorno un'auto regolarmente in sosta è stata infatti colpita in pieno da un altro veicolo e non è neanche la prima volta. Anni fa un'altra auto parcheggiata era stata investita da un'auto in transito e il conduttore ha pure tagliato la corda senza pagare i danni. Lamente le analoghe si sentono anche dai residenti di Perio, di San Leonardello e il problema è sempre la statale. I residenti di Via Finocchiaraprile inoltre affermano che pure uscire dall'auto è pericoloso e da tempo chiedono al Comune provvedimenti. Ma a quanto pare le soluzioni sono di difficile attuazione. Come già sanno i residenti, i dossi non possono essere collocati perché si tratta della nazionale e vi passano i mezzi di soccorso. Come poi ci ha spiegato il comandante della Polizia Municipale, Maurizio Cannavò, le bande sonore sono rumorose, disturbano e per questo diventano presto indesiderate. I residenti auspicherebbero a questo punto la collocazione di autovelox sempre al fine di dissuadere gli automobilisti che si credono piloti di Formula 1. Ma come ci ha spiegato sempre il comandante Cannavò, gli autovelox fissi non si collocano in zone centrali come invece è la via Finocchiaraprile e comunque è necessaria l'autorizzazione della Prefettura. Per quanto riguarda invece gli autovelox mobili che devono essere abbinati a due pattuglie di agenti, una posta prima dell'apparecchio e una dopo, il comune se ne deve ancora dotare e come sempre occorre fare i conti con le risorse finanziarie. Il comandante pensa quindi a migliorare la segnaletica orizzontale magari con dei limitatori di velocità, fermo restando che se si rispettassero le regole a partire dal codice della strada, tanti accorgimenti non sarebbero neanche necessari.